Musica Let's go, bitches! Allora, siamo pronti qui per un nuovo video e voglio fare una piccola intro dove vi chiederò ovviamente like tanto lo chiedo sempre e poi ovviamente vi voglio chiedere delle cose cioè vi voglio chiedere più che altro delle vostre opinioni per prima cosa la partita che state vedendo è quella dove vi avevo chiesto 1350 like se non sbaglio durante il classi overpower di quella che è la mia miglior classe o comunque la classe che io preferisco giocare quando gioco pubblica oltre a questo questa classe è presa dal competitive ispirazione dalle classi competitive e quello che vi voglio dire è proprio riguardante il competitive ieri mi avete visto giocare in streaming eravate più di mille, un picco assurdo e siete stati per tantissimo tempo a seguire il competitive oltre che ovviamente vedere questo video e commentarlo mi piacerebbe sapere da voi un commento su cosa è il competitive se vi è piaciuto questo nuovo modo di giocare a Call of Duty o comunque di vedere Call of Duty in un'altra maniera perché comunque Call of Duty come sapete giocandolo in pubblica dove un po' può stancare o stufare in questo modo grazie al competitive vi si può dare nuova linfa vitale si possono creare situazioni o comunque tipologie di gioco e divertimento che non si può avere magari in una partita pubblica e quindi dare sempre nuova vita a Call of Duty Black Ops fatemi sapere se vi è piaciuto fatemi sapere cosa ne pensate fatemi sapere se ne volete di più e vi posso dire solo una cosa finita la Dark Matter io mi butterò a fare anche cose di competitive giocherò in arena con i subscriber farò un Road to Grandmaster che sarebbe il rank massimo dell'arena ho tipo fatto il beatbox Grandmaster Road to the bass comunque oltre a questo butchess ci becchiamo dopo in streaming ovviamente sempre per giocare con voi subscriber e poi assieme agli domina per fare scream io sono Power quindi let's go ho fatto il colpo madonna come l'ho arratato a questo colpuda oh no bitch oh no bitch e questo è un piccolo tutorial by power di come si dovrebbe giocare COD grazie grazie ho preso un Visat in meno di 10 secondi la chat tanto sta impazzendo no sono un coglione sono perché mi sono fionnato là perché mi sono fionnato là dai perché hai sparato mortacci tua mi hai spaventato vado io a prenderlo vaffanculo no che ti si incula vado a piegno questo vai la mina guarda la mina quello che spezza la umore ora questo ok si così si ragiona Power si Power continuiamo continuiamo Power continuiamo più cattivi però dai con l'M8 più cattivi l'HGX dicela con me in ogni partita a me per abbracare tu sia con la schierta mi serve tu sia con la schierta mi serve così continuiamo così Power yeah bitch yeah bitch ok questo l'ho scopato è la mia pressione è mio è mio è mio no sto a fare la nuve il fratello mi rompe le palle vi la prendiamo a 155 fatemeli uccidere a me che sto a fare nuclear più apicate sempre ve prego le odio le odio ancora di più a te dov'è questo mister centone vieni qua vieni qua stavano su ok sta entrando un po' de carne da macello vabbè 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 no no ok siamo tutti non ce l'ho posso fare un pochino di kill nope nope niente no non posso fare una kill cioè sto per perdere la nuve amplifica di sempre no merda e non trovi nemici guarda 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 morto va 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 morto ammazzato il C4 va bene no ma io non faccio una kill l'altra ora pura vabbè però sai com'è sto facendo tipo ve sto a tirare i visat ve sto veramente a a dare pane poi se mi ammazzano così abbiamo un po' di vietà per noi che non abbiamo fatto mai un nuclear aspetta che l'ammazzo io quello là dietro niente nucleare ragazzi il nuclear più epico di sempre fatto grazie grazie tu e il tuo talon siete i benvenuti alla mia festa di compleanno spaccio che organizzeremo a breve oh che cazzo spara quel cazzo di talon malato drogato mi ha ucciso grazie a tutti grazie a tutti